La prima cosa che mi viene in mente è quella di continuare sulla coesione tra i membri del CIPOMO, di vedere chi è che c'è e favorire la collaborazione di tutti. Poi dobbiamo lavorare nei confronti delle altre associazioni. L'oncologia è fatta di interdisciplinarità per eccellenza e noi dobbiamo quindi in qualche modo lavorare con tutti e in particolare aumentare la collaborazione con i pazienti, le associazioni, perché vogliamo sapere se quello che facciamo è coerente con i bisogni che noi in qualche modo immaginiamo ma con cui dobbiamo confrontarci. Poi dobbiamo ripensare alle nostre future organizzazioni nell'ottica di rete, nell'ottica di un'oncologia che si modifica e che fa i conti con un'abitudine antica di separare le organizzazioni l'una dall'altra in un'ottica invece di un'oncologia che si deve integrare sempre di più e vogliamo capire quali saranno i nostri futuri asset organizzativi.